Buongiorno, oggi vi faccio l'home tour visto che uno di voi me l'aveva richiesto comunque non mi perdo in chiacchiere e inizio subito allora, qua praticamente, qua c'è la strada, qui sotto, si sale e c'è la sbarra dove entriamo noi si parcheggia uno e due, poi con la scendiamo e proseguiamo andiamo insieme e entriamo nel cancelletto questo qui questi due sono altre due case che ci sono questo qui sotto alla mia, cioè sotto alla nostra e questo altra è sotto di lato e se entriamo questo è l'ingresso che c'è del violetto questa qua è la nostra terrazza comunque adesso non si vedrà niente però poi comunque c'è un po' di messo di sopra comunque la porta è un ingresso ci sono io nel frattempo che sto vloggando cioè che sto facendo video comunque qui qui sbagliare e qui il comore adesso qui la sotto c'è la santa che prevedevo già fatto in un video per vedere in un video Ok, entrate in casa, praticamente qua la terrazza Capirazzo, le piantine, altre cose varie di mano, lasciamole perdere Poi c'è la televisione con il mobile che ci hanno lasciato sia da sotto che sopra Il tavolino, anche questo era in cantina, noi l'abbiamo portato su Il tappeto, il mobile con i dvd, sopra, qua e altre cose varie Il divano, il computer con il tavolo con il computer Poi la cucina, eccola qua Poi le luci Il quadro che ci hanno lasciato e la piantana, quella che mi ha comprato mia mamma Praticamente si accende con il tastino portato a schiacciare in terra Poi lo stanzino, mobile, spirapolvere, asse e altre cose varie di attacca panni bruttissimo Proprio come la mensola con le buste Poi qui un'altra mensola con un altro attacca panni Il contatore, non so se sia quello generale Poi qua invece c'è la camerina Poi ve la faccio vedere, qua c'è la terrazza Qui in frattempo c'è il giardino di quello di sotto a me E noi insomma, la cosa, la lavastrice Però abbiamo capito perché abbiamo paura che comunque si sciupi con il sole Infatti poi questo qui andrà tagliato tutto, si è stimato per bene Ecco Questa è la camerina con l'armaglio E' la valigia E' la televisione che abbiamo portato su Che era a casa del mio ragazzo Poi Il bagnetto Con il mio spazzolino a carica, ne facciamo così Mobilino, tutte le cose nostre, doccia, sanitaria Tutti gli accappatoi Quello che faccio il bagno sporchio C'è la mia scatola, i tappeti, il sciogamento Insomma, questo è il nostro bagnetto E qua c'è la nostra camera Con l'armadio, cassettona, quelle di scatole poi andranno via E altre cose varie I pomodini I pomodini e l'armadio li ho presi da mondo convenienza Mentre le Vajour L'ho preso da Ikea Questo qui l'ho preso da Maison du Monde La cornice E l'altra lampada L'ho preso da Ikea Sempre E poi ho preso da Ikea Anche Se non... no No, basta Le luci invece queste qua Queste E Queste qui Da Obi Mentre La luce questa L'ho presa da Ikea E la luce questa L'ho presa da Ikea Comunque Questo era il long tour Io vi mando un grosso bacio Seguitemi sui social E ci vediamo al prossimo video Ciao